Ciao ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere la mia collezione di Scream Mask Partiamo dalla prima, la Fantastic Faces Gen 1 Bellissima, molto accattivante Fantastic Faces Gen 2 Le mie amate Ferson Faces Eccole qua, tutte e tre Ferson Faces Mask Passiamo alla Scream 4 Collector HHN Molto bella questa Cappuccio in vivo e un materiale proprio durissimo Reshot Scream 3 Regalata da mio caro amico Michelle Bellissima e identica a quella del film Ghost Face Mask Ghost Face Mask Glows in the Dark E infine Scream 3 Asics Ciao ciao ragazzi Ciao ciao ragazzi